Risorse per oltre 120 milioni di euro, distribuite per 45 interventi progettuali, suddivisi in 5 ambiti territoriali. Questa la sintesi del lavoro della Commissione Tecnica istituita dalla città metropolitana di Torino per definire la ricaduta delle risorse della Missione 5 del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, dedicata ad inclusione e coesione sociale. Il lavoro della Commissione è stato illustrato dal sindaco metropolitano Stefano Lorusso nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra, durante la cabina di regia istituzionale sul PNRR convocate insieme al Presidente della Regione e ai Rettori di Università e Politecnico. I capofila dei 5 ambiti territoriali metropolitani sono Carmagnola, Grugliasco, Ivrea, Pinerolo e la Valle di Susa. Nell'ambito territoriale, come un capofila Carmagnola, sono stati ammessi i progetti presentati da 7 comuni. Riceveranno risorse per 16 milioni di euro. Ai 18 comuni dell'ambito il cui capofile Grugliasco andranno a 57 milioni. Sono 8 i comuni dell'ambito di Pinerolo, a cui sono destinati i fondi per 19 milioni. 18 milioni e mezzo vanno agli 8 comuni dell'ambito di Ivrea, 10 milioni ai 4 comuni dell'ambito della Valle di Susa. Spetta alla città metropolitana il compito di trasmettere al Governo i progetti di Torino e dei 45 comuni metropolitani per arrivare entro giugno alla loro approvazione. Abbiamo valutato di ripartire le risorse sul più possibile anche all'esterno della città di Torino. È stato un sacrificio che fanno i cittadini della città di Torino, ma l'ottica è quella del rilancio generale dell'intera città metropolitana perché se riparte la città metropolitana riparte il Piemonte e riparte anche il Paese. Il primo spunto è sicuramente la quantità e la qualità dei progetti che sono stati presentati in città metropolitana. Sei aree che si sono aggregate insieme a quella di Torino, 214 progetti presentati per un totale di 607 milioni di ipotesi progettuali. Abbiamo scelto 45 interventi diffusi sul territorio, suddivisi per aree e pensiamo che questo tipo di percorso abbia valorizzato le peculiarità e le specificità delle tante aree che compongono la città metropolitana di Torino. Di questi interventi abbiamo individuato due linee strategiche principali che possiamo racchiudere in due titoli. Quindi luoghi di incontro, biblioteche, teatri e civic center e housing sociale. Quindi tanti interventi che riguardano il sostegno sociale e le fasce più deboli. Faccio degli esempi molto concreti, penso alla riqualificazione del teatro civico di Moncaglieri piuttosto che alla riqualificazione del polo di protezione civile e di assistenza sociale di Bussoleno. Penso a un bellissimo intervento a Usseglio che riqualificherà da un punto di vista sociale delle vecchie casermette. Penso a quello che si farà a Settimo Torinese, quindi un civic center con a fianco una scuola. Insomma, tanti interventi che a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, raccontano un territorio ricco, con molte peculiarità e con tantissima voglia di progettare e di provare a fare un passo in avanti dopo questi anni davvero molto molto complicati.